Litigare col partner non fa bene, oltre a causare stress, provoca anche l'aumento di peso. Secondo una ricerca effettuata dall'Università dell'Ohio, negli Stati Uniti, i malumori in famiglia possono farti prendere fino a 5 chili in un anno. Per arrivare a questa tesi, i ricercatori hanno studiato 43 coppie, di età compresa tra i 24 e i 61 anni, sposate da almeno 36 mesi. I partecipanti hanno risposto a dei test, consumato un pranzo ipercalorico e poi effettuato una serie di colloqui con i medici. Chi alla fine della giornata ha mostrato segni di insofferenza verso il partner, con conseguente discussione, ha bruciato 118 calorie meno rispetto a chi è rimasto tranquillo. Calorie che, messe insieme, in un anno fanno 5 chili. Morale? Meglio evitare litigi inutili, si sta più tranquilli e non si ingrassa.